per la prova alle parallele asimmetriche. Terza sovietica alla trave Natalia Kalinina. Natalia Kalinina è settima nella gradatoria individuale, 17 anni. È stata protagonista in due tappe del circuito di qualificazione per la Coppa Europa. Ha vinto proprio in questa specialità la prova nell'appuntamento di Mosca, il Moskov News, dove si qualificò infatti al primo posto nella specialità della trave. Grazie. 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 Grazie.